L'apertura del dormitorio rischia di arrivare nuovamente, come negli anni scorsi, in ritardo. A lanciare l'allarme sono le acli provinciali di Arezzo che chiedono all'amministrazione comunale di anticipare, già da primi giorni di novembre, l'attivazione del servizio senza attendere l'arrivo del freddo, garantendo così un riparo e un luogo dove passare la notte alle tante persone che vivono problematiche abitative e situazioni di povertà e solitudine. L'associazione esprime infatti preoccupazione di fronte alla mancanza di comunicazioni da parte della Giunta per far fronte ad una problematica sociale che in città è testimoniata dagli stessi numeri delle precedenti esperienze. Nel 2018-2019 furono infatti registrati oltre 2.400 pernottamenti in un totale di 124 notti. Una città come Arezzo, ha commentato Stefano Mannelli, presidente provinciale delle Acli, avrebbe bisogno di un dormitorio attivo per tutto l'anno, ma l'assessore ha già più volte espresso la propria contrarietà a questa soluzione. Un miglioramento del servizio appare comunque possibile ed auspicabile, prevedendo un'attivazione più ampia rispetto ai soli 4 mesi tra dicembre ed aprile, anticipando realmente le emergenze climatiche, fornendo l'accoglienza sin dal primo momento in cui emerge l'effettivo bisogno. Un'apertura più ampia ricorda infine Mannelli, ha bisogno di più volontari, dunque sarebbe stato utile allargare lo spettro degli enti e delle associazioni. Sul territorio esiste una situazione di disagio di cui le istituzioni devono farsi carico. Con l'arrivo del mese di ottobre, purtroppo, ancora non ci sono risposte certe e dunque, conclude, temiamo una nuova apertura ritardata.